Sono Angelo di Pedroni Auto, siamo specializzati nella vendita di vetture Volkswagen. In primis c'è la bellissima Volkswagen Golf, qui abbiamo anche altri marchi. Inoltre il nostro team che è specializzato in tutto questo, quindi molto preparato. Vi aspetta proprio per presentarvi il meglio di noi. Dove siamo? Siamo a Leno. Questo che voi vedete è lo spazio dove c'è tutto il nostro stock di vetture che voi siete invitati qui a visionare. Inoltre abbiamo anche delle esposizioni interne. Ecco, come voi vedete questo è il nostro showroom dove ci sono le vetture più cattive, quelle più belle, che colpiscono di più. E' qui dove vi possiamo fare un buon preventivo e soprattutto trovare un accordo. Inoltre, come voi vedete, questa è una sala fotografica bellissima dove vengono sviluppate tutte le fotografie che vengono messe tutti sui sistemi web per portarvi il meglio delle nostre vetture a conoscenza. E anche qui è dove consegneremo la vostra vettura. Ma il meglio del meglio della Pedroni Auto è il nostro team che ora vi presenterò. Qui abbiamo Michele che con me vi consiglia la scelta della vettura giusta per voi. Qui abbiamo Livio che segue tutta la parte amministrativa con tutta la documentazione che serve per la consegna delle vetture. Abbiamo Enrica che è addetta alle matricolazioni e qui c'è anche Ermi che invece segue tutta la parte amministrativa. Ma chi è che vi consegna la vostra vettura? E' Mario. Dopo aver fatto un super controllo. Noi vogliamo essere innovativi? Ecco perché abbiamo un esperto web e Andrea. E per finire siamo noi, io e mia moglie Agnese. Siamo i due soci della Pedroni Auto. E' 33 anni che questa società c'è, quindi ecco perché c'è grande esperienza. Abbiamo fatto in modo che tutto il team sia una grande famiglia ed ecco perché non vediamo l'ora di accogliervi qui a Pedroni Auto.